Salve a tutti amici di scommesse.commenterecessioni.com e benvenuti finalmente con le quote vincente della serie A di SNAI. Prima di cominciare volevo ricordarvi di scrivere nei commenti qual è secondo voi la favorita di quest'anno, anche se quasi tutti i bookmakers sono già d'accordo in un'anemità sull'uscente campione del 2024. Vediamo quindi un Inter campione d'Italia con i suoi campioni Lautaro, Turan e la Juventus che si affida a Tiago Motta. Il ritorno di Conte in serie A che darà una bella spizzata di energia al Napoli e scopriamo chi vincerà il campionato secondo i bookmakers italiani. Quindi vai con la sigla e poi vediamo subito per SNAI quali saranno le favorite per il 2024-2025. Partiamo con SNAI. Inter a 1.75, Juventus a 4.50, Napoli 5.50, Milan 7.50, Atalanta 20, Roma 25, Lazio 50. Per SNAI dunque è l'Inter la favorita di questa stagione, bancata a 1.75 tra la quota vittoria Scudetto con una probabilità stimata al 57%. Seguono Juventus a 4.50 e Napoli a 5.50 con relativamente probabilità del 22 e del 18%. Milan un briciolo più staccato a 7.50 con un 30% di probabilità. Quindi è abbastanza sfavorita da SNAI. Vediamo Eurobet. Per Eurobet l'Inter è a 1.75, Juventus a 4, Napoli a 4.70, Milan a 6, Atalanta a 17, Roma a 17 e Lazio a 26. Quindi anche qui Inter vincente per Eurobet a 1.75, Juve a 4, Napoli a 4.70 e Milan a 6, un po' più vicino. Per finire vediamo William Hill che mette un Inter a 1.66, Juventus a 4.50, Napoli 7.50, Milan a 7.50, Atalanta a 23, Roma a 26, Lazio a 51. Il boom è che ha della regina quindi viene l'Inter a 1.66, sempre la Juve a seconda a 4.50, Napoli-Milano a pari di merito a 7.50. Se volete ottenere il bonus di SNAI da 325€ dovete cliccare sul primo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da PC dovete scorrere il video, cliccate sul primo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra. Poi cliccate sul primo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale sono legali a 100% e in possesso di licenza rilasciata dall'agenzia di dogani monopoli che ne garantisce sicurezza e affidabilità. Prima di terminare il video vi ricordo che se volete ottenere il bonus di Golbet da 330€ dovete cliccare sul secondo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da computer dovete scorrere il video, cliccare sul secondo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra. Dopodiché cliccate sul secondo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Per oggi è tutto, se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale, attivare le notifiche cliccando sulla campanella e condividere il più possibile in modo da far vincere anche i tuoi amici. Buone scommesse! Grazie a tutti!